Musica Continua il dibattito in Italia sulla terza dose del vaccino anti-Covid. Al momento nessuna certezza e nessuna decisione, soltanto un'apertura dal Ministero della Salute a un possibile secondo richiamo per i più fragili. Alcuni paesi esteri fanno intanto da apripista. In Israele si contano già più di un milione di terze dosi già somministrate a operatori sanitari, fragili e over 50. Anche gli Stati Uniti seguiranno la medesima strada. C'è già una data di partenza, il 20 settembre. Francia e Germania stanno per ora a guardare, ma sono pronte a mettersi in moto. Nessun accenno dunque agli over 60. La campagna per la terza dose richiederebbe in ogni caso una riorganizzazione della macchina, visto che i grandi hub in tutta la penisola si avviano verso la chiusura per il completamento del ciclo. A pesare sulla decisione del secondo richiamo, ci sono però alcuni punti. La durata effettiva dell'immunità conferita dai vaccini, il ruolo delle varianti nel ridurre la protezione e il raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge. Una situazione quest'ultima, secondo alcuni esperti, già tramontata in Italia. Le decisioni saranno prese in base all'analisi dei dati e in base a quanto faranno gli altri paesi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, intanto, lancia un monito affinché ci si concentri ad aumentare le coperture nei paesi che ancora non hanno avuto accesso ai vaccini. Se buona parte del mondo non è immunizzata, dice l'OMS, la pandemia non rallenterà. Si chiama Goal, garanzia di occupabilità dei lavoratori ed è il maxipiano del governo Draghi per rilanciare le politiche attive sul lavoro. Parliamo di un finanziamento complessivo di 4,9 miliardi tra PNRR e ReactU per almeno 3 milioni di beneficiari entro il 2025, di cui il 75% devono essere donne disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30, lavoratori over 55. Potranno beneficiare di Goal i lavoratori in CIG, i beneficiari di NASPI e DISCOL, del reddito di cittadinanza, i lavoratori fragili o vulnerabili, i disoccupati senza sostegno a reddito, i cosiddetti working poor. In base allo status occupazionale si prevedono 4 percorsi di sostegno alla ricollocazione, più un quinto distinto dai primi quattro nei casi di crisi aziendali. Si parte dal reinserimento lavorativo, ovvero dalla presa in carico di lavoratori con competenze immediatamente spendibili, per passare al percorso di aggiornamento, che prevede invece interventi formativi prevalentemente di breve durata e dal contenuto professionalizzante per adeguare competenze già acquisite. Il terzo percorso riguarda lavoratori più distanti dalle richieste del mercato del lavoro, per cui si rende necessario un processo di riqualificazione, con una più robusta attività di formazione per innalzare i livelli di qualificazione rispetto al livello di istruzione. Quindi arriviamo alla quarta opzione, quella che riguarda i profili più complessi e che prevede l'attivazione della rete dei servizi territoriali, educativi, sociali e sanitari per un percorso di lavoro e di inclusione. Infine, il piano del governo prevede anche la ricollocazione collettiva, situazioni in cui appare opportuno valutare i profili di occupabilità non singolarmente, ma per gruppi di lavoratori. È il caso di situazioni di crisi aziendali che coinvolgono lavoratori ancora formalmente occupati, ma potenzialmente in transizione. È corsa il Green Pass di 48 ore, il documento che si ottiene in farmacia sottoponendosi a un test antigenico che attesta la negatività al Covid. L'assalto di famiglie giovani è cominciato a ridosso di Ferragosto prima della partenza per le vacanze. Le file davanti alle farmacie e ai gazebo si sono allungate e le richieste sono aumentate in modo esponenziale, dicono da Federfarma, tanto che gli orari per i tamponi sono stati prolungati anche al pomeriggio e alla sera. A presentarsi per ottenere il pass che consente di accedere ad alberghi, ristoranti e locali sono per la maggior parte nuclei familiari con bambini e ragazzi non vaccinati. Ma, raccontano i farmacisti, non mancano le persone che ne hanno bisogno per andare a fare una nuotata in piscina, fitness in palestra o una cena in trattoria. Raramente si è messo in fila pure qualche anziano. Purtroppo questo significa che tanta gente non è ancora vaccinata, commenta Nicola Stabile, past president di Federfarma Campania. Il Green Pass di 48 ore, insomma, è una specie di cartina al tornasole. Chi non ha voluto o potuto accedere alla somministrazione del farmaco immunizzante non vuole però rinunciare alle ferie o alla socializzazione. L'Irpinia si prepara alla riapertura delle scuole tra dubbi, timori e ritardi. L'unica certezza allo stato attuale è che l'ok del Parlamento sui controlli del Green Pass, sul distanziamento e sulle altre misure per il ritorno in classe e in sicurezza arriverà ad anno scolastico già iniziato, ovvero a fine settembre. Secondo Erika Piccariello, coordinatrice provinciale della CGL Scuola, i dirigenti scolastici della provincia sono in estrema difficoltà perché per un verso il Ministero punta ad una didattica in presenza al 100% sulla base di indicazioni enorme, vaghe e contraddittorie. Peraltro c'è il contesto reale con cui fare i conti e se lo spopolamento ci aiuta perché ci restituisce strutture e spazi che consentirebbero, soprattutto in provincia, rispetto delle norme sul distanziamento in aula, poi c'è la realtà. Manca l'organico Covid che arriverà con grande ritardo, dunque mancano le risorse umane necessarie per garantire una ripartenza in sicurezza e i finanziamenti sono stati stanziati con enorme ritardo e soprattutto male. Molti dirigenti scolastici sostiene Piccariello nelle condizioni date saranno costretti a ricorrere alla didattica mista integrata al 50% o persino al 70% perché questo è l'unico modo per tentare di garantire davvero la sicurezza. Tenuto conto del fatto che se il personale scolastico è completamente vaccinato, molti studenti non lo sono. E l'obbligo di mascherina non basta, tenuto conto che l'unico suggerimento del Ministero per garantire la reazione in aula è quello di mantenere porte e finestre aperte e che esistono i soggetti fragili. Quindi c'è il grande problema dei trasporti. Piccariello ricorda che non c'è nessun piano se non quello dello scorso anno, calibrato sulla didattica mista integrata, non certo sulla didattica in presenza al 100%. Cosa accadrà con l'inizio dell'anno? La verità, ha chiosato con amarezza, è che questo Ministro immagina che l'Italia finisca in Emilia, ignora completamente le condizioni della scuola da Roma in giù e dunque ha messo in campo politiche e soluzioni del tutto inadeguate alle nostre realtà. Il grande rischio, soprattutto per le scuole superiori concentrate in città e nei grandi centri urbani, è quello di un terzo anno di didattica mista integrata. Questo vorrebbe dire condannare un'intera generazione. Medici, ossi, infermieri, tecnici e amministrativi, l'azienda Moscati di Avellino aderisce a Garanzia Giovani e attiva 65 tirocini formativi retribuiti. La durata è di sei mesi e per i tirocinanti è prevista un'indenità minima di 500 euro al mese per un impegno settimanale di 25 ore. Solo per il profilo professionale dei medici è prevista un'indenità mensile di 980 euro. Possono presentare domanda di partecipazione i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni disoccupati non iscritti a scuola o all'università e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale. E i giovani anche non-nit dai 16 ai 35 anni che frequentano corsi di istruzione o di formazione purché disoccupati e residenti in Campania. Il termine fissato per la presentazione delle domande è il 15 settembre 2021. Per partecipare è necessario iscriversi al programma Garanzia Giovani Campania. Credo che gli amministratori dovrebbero preoccuparsi non della bontà e della qualità dei dati certificati anche a livello europeo ma bensì di come migliorarli. È durissima la replica dell'ARPAC in merito alla polemica sollevata dal sindaco Gianluca Festa che ha contestato i rilevi delle centraline dell'agenzia regionale evidenziandone la differenza dei dati che vengono riportati tra quella di via Oscar d'Agostino e quella piazzata in via Piave. La prima ha segnalato fino ad oggi 30 sforamenti di polveri sottili in città, la seconda è a quota 38. Per il primo cittadino si tratta di un'anomalia mettendo in dubbio la qualità delle rilevazioni come se lo smog dipendesse da analisi sballate. Non è consentito a nessuno contestare i dati delle centraline che sono tarate secondo una precisa normativa tecnica in materia di qualità dell'aria. La risposta del presidente regionale di ARPAC Stefano Sorvino. Le centraline sono ubicate in posizioni con caratteristiche differenziate per offrire una rappresentazione completa e puntuale. Non si può prendersela con il medico se la diagnosi non è gradita e il nostro lavoro di monitoraggio è certificato a livello europeo. Per il resto comprendo che il problema ambientale è di complessa risoluzione e capisco la difficoltà dei sindaci ma se l'approccio è quello di contestare i dati allora si parte male. Il dirigente delle reti di monitoraggio ARPAC Giuseppe Onorati entra ancor più nello specifico dovremmo preoccuparci se le centraline fornissero gli stessi dati innanzitutto in questo caso sarebbero spreco di denaro pubblico i risultati sono diversi semplicemente perché posizionate in punti differenti appunto per cogliere tutte le possibili variazioni e fornire un quadro più completo. Una delle due in particolare è esposta al traffico veicolare l'altra registra i valori di fondo. Per chi aveva dubbi comunque bastava informarsi la stoccata i nostri dati sono certificati a livello provinciale, regionale ed europeo e sono state utilizzate pure dai consulenti della procura per il precedente procedimento penale nei confronti di Foti e Galasso e nessuno ne ha messo in dubbio la qualità conclude il dirigente ARPAC. Veramente di questo passo non andiamo da nessuna parte ARPAC è da tempo che ha chiarito le motivazioni tecniche sui dati dall'amministrazione sentiamo invece solo polemiche e annunci ci faremo diremo intanto non succede nulla il problema incide pesantemente sulla salute di tutti per favore senso di responsabilità e serietà il richiamo invece del presidente del comitato salviamo la valle del sabato il medico Franco Mazza. Sanitari Novax sono 26 gli operatori che nei mesi scorsi sono finiti nella blacklist della Slavellino per non aver aderito alla campagna vaccinale anti-covid in 7 ci hanno ripensato e hanno già fatto il vaccino in un caso è stata presentata certificazione medica di impossibilità a ricevere il siero per gli altri 18 operatori da via degli in bimbo sono invece partite le pecche e le lettere raccomandate ora i destinatari avranno 5 giorni di tempo a far data dalla ricezione per comunicare la loro scelta vaccinarsi oppure no trascorsi i 5 giorni l'ASL programmerà la seduta vaccinale nel caso in cui anche quest'ultimo tentativo dovesse andare a vuoto si procederà con la sospensione dal servizio o con lo spostamento ad altre mansioni Antonio Zarra, 25enne di pianura già noto alle forze dell'ordine è morto nella notte portato in ospedale con ferite d'arma da fuoco da alcuni conoscenti sette i proiettili che lo avrebbero centrato in via Jacopo Carrucci a Napoli dove i carabinieri della compagnia di Bagnoli del nucleo radiomobile della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli hanno poi trovato dieci bossoli e tracce di sangue indagini sono in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili il giovane con precedenti per droga sarebbe stato raggiunto a pochi passi da casa sua ad alcuni soggetti probabilmente a bordo di una moto o uno scooter si trovava nella sua auto quando è stato raggiunto dai colpi esplosi da una pizzola di calibro 9 dieci sono stati proiettili esplosi e sette quelli che hanno trafitto il corpo della vittima a nulla è servita la corsa all'ospedale San Paolo di Napoli il ragazzo nonostante lo sforzo dei sanitari non ce l'ha fatta sul posto sono giunti i carabinieri impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica della vicenda soltanto pochi giorni fa a Napoli un'altra notte di violenza consumata fra i quartieri di Ponticelli e Fuorigrotta si è conclusa con un drammatico bilancio di due morti e tre feriti a perdere la vita era stato un 48enne accoltellato a seguito di una lite oltre ad un 46enne stroncato nel corso di una sparatoria covid contagio in doppia cifra in provincia di Avellino 15 nuovi casi emersi dall'analisi di 385 tamponi questi i numeri del bollettino dell'ASL il tasso di positività è al 3,89% intanto la campagna vaccinale anti covid procede a ritmo spedito nella giornata del 20 agosto programmato un nuovo open day ed il tour della salute arriva ai piedi di mamma schiavona domenica 22 agosto infatti il camper della salute dell'ASL Avellino farà tappa nel piazzale del santuario dell'abbazia di Montevergine per procedere alla somministrazione del siero Pfizer o Moderna a tutti i cittadini a partire dai 12 anni senza bisogno di prenotazione anche se non iscritti sulla piattaforma regionale si andrà avanti dalle 9 del mattino fino alle 15 camper della salute in giro anche nei comuni Irpini venerdì il camper sarà a Mora de Santis dalle 9 alle 14 nel pomeriggio a Rocca San Felice dalle 15 alle 20 sabato il camper farà tappa ad Avellino dalle 16 alle 23 lunedì 23 agosto dalle 8 alle 14 sarà a San Nicola Baronia e nel pomeriggio dalle 15 alle 20 a Carife l'obiettivo è raggiungere la copertura dell'intera popolazione vaccinabile con particolare attenzione alla fascia più giovane afferma il direttore generale dell'ASL Maria Morgante grazie alla presenza quotidiana di Open Day e camper su tutto il territorio provinciale contiamo di raggiungere anche le persone che sono ancora indecise il lavoro che stiamo mettendo in campo sta dando i frutti sperati la popolazione sta rispondendo bene conclude la Morgante nella giornata del 18 agosto intanto nei centri vaccinali dell'ASL Avellino sono state somministrate 1737 dosi di vaccino Montoro infiamme il rimorchio di un tir carico di pomodori il mezzo pesante proveniva dalla Puglia ed era diretto in una fabbrica dell'agronocerino sarnese lungo il raccordo autostradale Salerno Avellino all'altezza di Montoro sud l'autista visto del fumo venire fuori dalla parte posteriore del mezzo ha quindi deciso di svincolare e fermare il tir riuscendo a dare l'allarme nel frattempo si era sviluppato un incendio che ha interessato il pianale del rimorchio e si è esteso a parte del carico di pomodori sul posto per domare le fiamme è stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino il pronto intervento dei caschi rossi ha permesso di spegnere il rugo e di limitare i danni intervenuti anche i carabinieri della stazione di Montoro secondo una prima ricostruzione il grippaggio di un cuscinetto degli assali avrebbe causato l'incendio Serino una 53enne finita ai domiciliari per stalking la donna a suo dire vantava un credito per l'affitto di un immobile ed aveva preso a seguire la vittima al suo indirizzo anche minacce fatte di persone e tramite i social e tentativi di aggressione nella serata di ieri l'epilogo la 53enne alla guida del suo SUV ha tentato di speronare l'auto condotta dalla malcapitata che non si è persa d'animo e ha immediatamente dato l'allarme contattando telefonicamente i carabinieri i militari le hanno date precise indicazioni circa le strade da percorrere per sottrarsi all'inseguimento e favorire quindi l'intervento in sicurezza dei carabinieri assunto il controllo della situazione dopo pochi minuti una pattuglia della liquota radiomobile di Solofra è quindi riuscita a intercettare e bloccare a Serino l'auto della 53enne che condotta in caserma su disposizione della procura della Repubblica di Avellino è stata tratta in arresto e sottoposta ai domiciliari non si arrestano gli incendi in Campania la provincia più colpita sembra essere quella di Salerno infatti si sono registrati diversi roghi boschivi in numerose località in cui è stato richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco delle forze dell'ordine della protezione civile delle squadre antincendio della comunità montana lento Montestella e dei mezzi aerei ed elicotteri nel parco nazionale del Cilento Vallodidiano e Alburni sono state sgomberate alcune abitazioni poiché le operazioni di spegnimento non sono state sempre semplici da gestire tra i diversi comuni cilentani le fiamme hanno colpito anche l'ustracilento provocando paura e tensione il primo cittadino Luigi Guerra a tal proposito ha annunciato sulla sua pagina facebook ieri sera si è verificato l'ennesimo incendio in pochi giorni solo grazie ad un previdenziale intervento da parte dei vigili del fuoco non si è verificato il peggio per contrastare il fenomeno in queste ore provvederemo ad acquistare delle telecamere trappola le quali verranno posizionate sulle strade e nei boschi sperando una volta per tutte di consegnare alla giustizia questi criminali gli incendi boschivi rappresentano la principale causa dell'impoverimento e del degrado del patrimonio forestale campano e determinano gravi squilibri all'ecosistema forestale e all'ambiente ponendo in alcuni casi a rischio le popolazioni che in ambito rurale ma non solo risiedono la vigilanza e la collaborazione di tutti sono essenziali per salvare il nostro patrimonio boschivo fondamentale per l'efficacia delle operazioni di spegnimento e il pronto intervento sui focolai di incendio lo ricorda la regione campania che ha istituito uno speciale numero verde 844-99-11 per le segnalazioni degli incendi boschivi chiamando questo numero gratuito ogni cittadino può segnalare le situazioni di pericolo per il bosco tale numero verde della regione si affianca ai numeri di emergenza 1515 del corpo forestale dello stato dal 115 del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal numero verde 823-25-25 della protezione civile regionale che concorrono nel sistema antincendio boschivo della regione campania si parla tanto di mercato ma il campionato è praticamente alle porte si inizia domenica al Maradona contro il Venezia settimana di lavoro atletico basato principalmente sulla brillantezza e di allenamenti tattici con gli azzurri impegnati di interpretare più sistemi di gioco in una stessa partita per garantire quel tocco in più di imprevedibilità e gestire al meglio situazioni diverse Napoli che da ieri ha ufficialmente un elemento in più il brasiliano Juan Jesus che ha firmato un contratto annuale con opzione per la stagione successiva ingaggio da un milione più bonus in caso di raggiungimento della Champions League il difensore ha svolto il primo allenamento con la squadra al Maradona in vista dell'esordio nello stadio di casa contro il Venezia e sarà già disponibile per la gara di domenica può ricoprire all'occorrenza il ruolo terzino sinistro oltre a quello di centrale al momento il quarto centrale in sostituzione di Luperto ma resta in dubbio la posizione di Manolas per il discorso Olimpiakos il difensore greco per la sfida con il Venezia è in ballottaggio con Rachmani per una maglia al centro della difesa in coppia con Koulibaly il leader del reparto difensivo Spalletti ha lavorato molto sul 4-3-3 ma l'interpretazione è di più moduli a seconda della fase offensiva e difensiva e di altri momenti della partita con la squadra che a tratti si affida al 4-1-4-1 in altri al 4-3-2-1 l'importante è avere sempre equilibrio e compattezza aspetti sui quali il Napoli è già a buon punto e ora il tutto verrà migliorato con il ritmo che comincerà a crescere sempre di più partita dopo partita ieri sera la firma a Montefalcione questa mattina l'arrivo al partenero Lombardi per sostenere di testa a 13 sotto gli occhi di Braia è cominciata l'avventura in Irpina dell'attaccante Luca Gagliano classe 2000 arrivato a titolo temporaneo dal Cagliari la giovane punta era stata girata in prestito al Brescia ma l'EDS Sardo Stefano Capozucca l'ha subito richiamata dopo l'arrivo di Palassio nella squadra di Pippo Inzaghi il forte rischio di uno scarso impiego con le rondinelle ha poi spinto la società Sarda a dirottare in prestito Gagliano all'Avelino nato dal Ghero l'attaccante fu notato da una bandiera del Cagliari Gianfranco Matteoli in un provino nell'estate 2014 quando giocava nella Catalunia dal Ghero da allora Gagliano ha indossato la maglia del Cagliari e non l'ha più mollata fino al trasferimento nella passata stagione dell'Olbia con cui ha disputato 19 partite realizzando soltanto una rete in un campionato condizionato da un grave infortunio che l'ha costretto a uno stop di tre mesi Gagliano è salita alla ribalta soprattutto nella stagione 2019-2020 quando l'esordi in Serie A nel Cagliari realizzò un gol a Buffon e Forlina assista a Simeone per il raddoppio di Rosso-Bru nell'ultima giornata di Serie A contro la Juventus per l'Avelino si tratta di un'altra scommessa ben trovati in un aggiornamento con le previsioni di Treppi Meteo sabato pressioni medio-alte livellate sul Mediterraneo centro-occidentale garanzia di stabilità e bel tempo sulla nostra penisola e ci hanno un toglie durante il pomeriggio possiamo osservare qualche rovescio sulle Alpi settentrionali e le aree più interne dell'Appennino classici temporali di calore del pomeriggio ma andiamo al dettaglio perché appunto di nuovo l'anticiclone sub-tropicale sarà esteso dalla Spagna dal Nord Africa verso le nostre regioni con un incremento delle temperature cieli sereno poco nuvolosi e massimi ovunque tra i 29 e i 34 gradi punte di 35 gradi tra Umbria zone interne di Lazio e poi Toscana e verso la serata temporali di calore sulle Alpi e poi le aree più interne dell'Appennino Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti